Una delle più famose pasticcerie di Cremona ha deciso di far fronte alla crisi economica che sta colpendo tutte le attività del territorio cremonese. Il titolare Luca Betti ci spiega brevemente come il mondo digitale ha ridotto le perdite avvenute con le restrizioni dell'ultimo DPCM. Come state affrontando questo momento, questo lockdown che per voi è parziale comunque perché siete aperti col delivery, corretto? Non ci siamo mai fermati, abbiamo sempre voluto dare un servizio maggiore ai nostri clienti nonostante tutte le limitazioni del caso e ora abbiamo sviluppato anche un e-commerce dove si può fare tutto tranquillamente da casa e siamo comunque aperti per l'asporto e non abbiamo poi grosse limitazioni, solo il numero di persone è ridotto, le persone comunque fanno più fatica a muoversi e quindi abbiamo implementato il servizio di consegna a domicilio sia per telefonate sia con l'online e non ci fermeremo. Avete risentito della chiusura, diciamo quindi dell'impossibilità delle persone di venire presso il vostro punto vendita? Sicuramente sì, questo non ci ha però impedito di trovare metodi alternativi e essere comunque vicini ai nostri clienti che erano sì desiderosi di ricevere i dolci e di volerli comunque mangiare lasciando tutta la situazione un po' alla normalità, cioè volevano una sensazione di normalità e noi cerchiamo di garantirla tutti i giorni con le colazioni da asporto, le consegne a domicilio, quindi facendo quasi finta che non esista, forse è la cosa migliore, con tutte le precauzioni del caso. E per il periodo natalizio come vi siete organizzati? Ti penso che ormai ci siamo quasi, possiamo dire. Ci siamo quasi, sarà un po' un rebus perché comunque sarà sicuramente difficile capire il volume di clientela che si potrà avere e che si potrà sopportare sia con l'asporto sia con le consegne a domicilio, però con una buona dose di organizzazione sia da parte nostra sia da parte del cliente, quindi prenotando prima, quindi organizzandosi per tempo, noi saremo sicuramente in grado di accontentare tutte le richieste che verranno fornite. Grazie.